Oggi parliamo di un tema molto importante, parliamo della raccolta alimentare perché sta per tornare la 22esima giornata nazionale della raccolta della colletta alimentare organizzata dal Banco Alimentare perché il sabato 24 di novembre ci sarà questa giornata molto importante che è rivolta ovviamente ai più indigenti a chi ha bisogno in questo paese e il fronte alla povertà si è molto allargato e quindi è una delle occasioni più importanti in qualche modo per fare del bene ma anche per aiutare chi ha bisogno. Ne parleremo con chi se ne occupa per tutto l'anno fino a questa importante giornata che è Massimo Marchi, responsabile regionale della colletta alimentare. Buonasera e benvenuto. Salve. Allora per inquadrare un po' la situazione, guardare un po' anche quelli che sono i numeri a livello nazionale e locale, vediamo la scheda poi ne parliamo in studio. Banco Alimentare dal 1989 recupera in Italia alimenti ancora integri e non scaduti che sarebbero però destinati alla distribuzione perché non più commercializzabili. Salvati dallo spreco, riacquistano così valore e diventano risorsa per chi ha troppo poco. La rete Banco Alimentare opera infatti ogni giorno in tutta Italia attraverso 21 organizzazioni Banco Alimentare, dislocate su tutto il territorio nazionale, secondo le linee guida della Fondazione Banco Alimentare Onlus. Grazie all'attività quotidiana della rete, nel 2017 sono state distribuite circa 91.200 tonnellate di alimenti. Di questi, circa 8.200 tonnellate sono stati donati da 5 milioni e mezzo di italiani durante la giornata nazionale della colletta alimentare che si svolge ogni anno l'ultimo sabato di novembre. Gli alimenti recuperati vengono così distribuiti gratuitamente alle oltre 8.000 strutture caritative convenzionate con le organizzazioni Banco Alimentare Territoriali, consentendo loro di fornire aiuto alimentare a più di un milione e mezzo di persone bisognose in Italia, di cui quasi 140.000 bambini da 2 a 7 anni. La grande attività della rete Banco Alimentare è possibile anche grazie al lavoro quotidiano di circa 1.800 volontari. Allora, questo per fornire qualche numero, insomma, per inquadrare un po' la situazione, di cui però il cappello iniziale vorrei farlo fare con Massimo Marchi perché, insomma, come dire, è un'occasione che smuove anche, come dire, l'animo, il cuore di tanti italiani, tantissimi italiani, insomma, oltre 5 milioni, no, venivano citati. Questo di per sé, nel tempo dell'odio, delle fake news, delle difficoltà di comunicazione, è un bel segnale. Sì, infatti, il segnale della volontà di partecipazione e di aiuto da parte di tanta gente che incontriamo in quel giorno davanti ai supermercati è un segno per noi eccezionale della capacità del nostro popolo di rispondere a un bisogno che è comunque un bisogno che sta aumentando e da un bisogno sempre più grande. Non è scontato, diciamo così, no, anche perché, insomma, non è scontato anche mantenerlo in tutti questi anni che voi avete operato, insomma, come si fa a tenere altra l'attenzione su questo tema, no, che poi è una ricorrenza importante, ma viene una volta l'anno, quindi bisogna metterci la testa, no? Esatto, sì, sì. Sì, vabbè, ora noi lavoriamo tutto l'anno per preparare questo gesto, anche se poi le attività del Banco Alimentare sono molteplici, tutti i giorni ci sono un buon numero di volontari che lavorano assiduamente qui al magazzino per le consegne e per i ritiri anche dai vari enti che donano i materiali, che donano gli alimenti. Tra l'altro, come dire, il tema della raccolta alimentare è un tema a 360 gradi che riguarda tante questioni, perché da una parte c'è la raccolta che la si fa per i più poveri, dall'altro c'è l'altro grande tema connesso che è quello dello spreco alimentare, una vera e propria piaga per quanto riguarda anche il nostro paese, ne parleremo anche di questo. Intanto, mentre attendiamo di collegarci anche con chi poi insieme al Banco Alimentare, diciamo non insieme collegato adesso, ma fa parte del circuito della raccolta differenziata, ne parleremo tra pochissimo, volevo vedere però i dati del 2017, abbiamo una scheda, delle tonnellate raccolte a livello nazionale dalla colletta alimentare, eccole qua. Le tonnellate raccolte sono 8.200 in totale, volontari coinvolti 145.000 circa, 5 milioni e mezzo di donatori, come abbiamo sentito anche dal servizio, 13.000 supermercati coinvolti. Insomma, è una rete che riguarda davvero tutto il territorio italiano. C'è una differenza tra nord, sud, centro, tutta l'Italia in questo, come dire, magnanima? Ma io direi che bene o male tutta l'Italia partecipa a questo grande gesto. Io ho un po' di numeri sulla Toscana, noi copriamo circa in tutta la Toscana 500 supermercati e raccogliamo un po' meno di 600 tonnellate. I volontari sono, non abbiamo mai stimato un numero preciso di volontari, perché sono tantissimi. Per cui, insomma, però quello che riusciamo a raccogliere è comunque il... Per noi della Toscana rappresenta un po' meno del 20% di tutto quello che riusciamo a raccogliere durante l'anno, quindi è un gesto comunque importante e un gesto fondamentale per la nostra opera. Allora, facciamo così, sentiamo anche il presidente della Caritas Fiorentina, perché Alessandro Martini, perché anche lui, diciamo, con l'organizzazione della Caritas, ovviamente partecipa in qualche modo alla raccolta alimentare, lo fa in connessione con il Banco Alimentare, ma anche con la Fondazione del Cuore Sissoli, che gli organizza una propria raccolta alimentare, diciamo così, nei supermercati Coop. Noi qualche settimana fa eravamo nell'occasione in uno di questi supermercati, c'era anche Alessandro Martini. Sentiamo. Sì, anche come Caritas siamo qua, orgogliosi e riconoscenti per una giornata che è una testimonianza, vorrei dire, di grande passione, di solidarietà, di attenzione al territorio e soprattutto alle persone, alle persone più fragili di queste nostre comunità. Tante associazioni, ma anche il grande valore di una cooperativa di consumo, quale la Coop Firenze, che mette a disposizione tutto ciò che può mettere a disposizione per favorire questa esperienza. Un'esperienza che non solo si mantiene, ma che cresce nel tempo, nonostante le difficoltà di tutti a rendersi utili anche per le oggettive problematiche che ci sono. Siamo contenti, siamo veramente soddisfatti di un'esperienza che può aiutare tante persone a soffrire di meno. Allora, noi dovremmo avere in collegamento la Vice Presidente della Fondazione del Cuore Sissoli, Irene Mangani, che saluto e ringrazio. Buonasera, benvenuta Mangani. Buonasera a voi, grazie mille. Allora, come la sottolineava anche Martini, insomma, come facevamo anche qui in studio con Massimo Marchi del Banco Alimentare, la raccolta alimentare, diciamo, è un qualcosa che si può fare a 360 gradi, anche voi come Fondazione Il Cuore Sissioglie, dateli il vostro contributo, lo avete fatto qualche settimana fa, in una giornata molto importante. Qual è stato il risultato e cosa vi spinge ogni anno a replicare questa iniziativa? Sì, l'ultima raccolta alimentare è stata appunto il 13 ottobre, quindi sono passate poche settimane, il risultato è stato molto positivo, oltre 202 tonnellate di generi alimentari sono stati raccolti in quella giornata, grazie ai tantissimi volontari che si sono mobilitati e ovviamente alle persone che passando per i supermercati hanno voluto dare il proprio contributo. Per noi la raccolta alimentare è un appuntamento fisso, ne organizziamo due l'anno e pensiamo che sia fondamentale continuare a essere sul territorio, essere un punto di riferimento anche per chi si trova in un momento di difficoltà e cerchiamo di farlo insieme a Caritas e ad altre 150 circa associazioni che appunto sul nostro territorio, in Toscana, si occupano di persone che hanno bisogno di una mano e che quindi insieme ai volontari delle sessioni Tocicop passano la giornata chiedendo alle persone di donare, quindi facendo i volontari per la raccolta e poi portano sul territorio circostante quanto viene raccolto in quella giornata. Qual è il risultato, soprattutto qual è il feedback che avete dalle persone che sono lì? C'è volontà di donare? Cosa percepite come sentimento da parte degli utenti che partecipano? Devo dire che percepiamo una grande solidarietà, un grande movimento, le persone hanno voglia di contribuire, di poter dare una mano, soprattutto se si rendono conto che quella mano va a qualcuno che ha bisogno sul suo territorio, quindi qualcuno che possono in qualche maniera conoscere, che può essere la persona che vedono per strada o comunque delle situazioni di cui sono a conoscenza. Le persone hanno veramente voglia di contribuire, di dare una mano, sono informate, sanno dove andranno a finire i generi alimentari che stanno donando e devo dire che c'è un grande movimento. Quindi tantissimi volontari, anche continuiamo ad aumentare il numero ad ogni raccolta, circa 2000 persone l'ultima giornata si sono mobilitate come volontari e devo dire che anche questa è una cifra che ci comporta, perché vuol dire che le persone hanno ancora voglia di mettere a disposizione il proprio tempo per una buona causa. Un'ultima cosa, mangani veloci, anticipiamo un discorso e poi riprenderemo anche in studio. La raccolta alimentare è importante perché, come dire, appunto, sono le persone poi a donare a chi ha più bisogno, però ci possiamo anche dire per quanto riguarda il capitolo cibo, meno si spreca e meglio è. Insomma, gran parte di quello spreco che c'è in senso alimentare nel nostro paese, così come in realtà in tutto il mondo, ne abbiamo parlato spesso, va anche proprio a impoverire ulteriormente chi magari ha difficoltà a acquistare cibo, no? Assolutamente, il tema dello spreco alimentare è cruciale e credo che si debbano aumentare tutte le iniziative volte a ridurlo. Purtroppo gran parte dello spreco avviene nelle case delle persone, quindi non al supermercato, però dal nostro punto di vista abbiamo accordi con le stesse associazioni con le quali facciamo la raccolta alimentare perché possano venire a prendere nei punti di vendita il cibo in scadenza durante tutto l'anno, per cui la raccolta non diventa solo un'occasione che viene fatta due volte l'anno, ma continua durante tutto l'anno con queste donazioni che sono dei grossi in scadenza e che quindi da una parte vanno a combattere uno spreco che altrimenti ci sarebbe perché verrebbero buttati via e dall'altra vanno ad aiutare le persone in difficoltà. Assolutamente. Grazie mille Rene Mangani per essere stata con noi. Grazie. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro. E noi continuiamo la nostra chiacchierata perché il tema rimane questo, il tema centrale è quello della lotta allo spreco alimentare e della colletta, da parte per chi ha più bisogno, con Massimo Marchini in studio. Visto che abbiamo aperto il capitolo dello spreco alimentare, mi fate vedere la grafica dalla regia che riguarda proprio lo spreco alimentare in Italia, eccola qua, ci sono anche delle icone. Qui è diviso per settori, di fatto dal primario alla trasformazione, le varie fasi del processo che poi porta il cibo sulle tavole di ogni italiano e per ogni settore vedete lo spreco. Il totale sotto è da 5,6 milioni di tonnellate all'anno, cioè il 16% di quello che viene acquistato e poi va sprecato sostanzialmente e in questo ogni fase ha la sua percentuale di spreco e tanto tra l'altro si spreca nella distribuzione. Questo è un tema abbastanza cruciale. Marchi, è fondamentale agire anche qui perché una cosa è raccogliere, grazie alla solidarietà e poi ne parleremo in profondità, però bisogna partire anche da qui, cercare di buttare via il meno possibile. Sì, esatto, infatti a parte esiste a questo livello una legge, la famosa legge Gadda che comunque aiuta in questo senso, perché riesce a superare un po' alcuni ostacoli burocratici che c'erano da parte della grande distribuzione nel poter donare prodotti vicini alla scadenza, che erano sulla conservazione degli alimenti e tante altre questioni, ma che poi alla fine facevano buttare via tantissimo materiale quando poi invece era donabile. Consumare preferibilmente entro il, insomma poi erano prodotti che si potevano benissimo consumare anche successivamente, quindi da una parte c'è questa attenzione anche da parte del legislatore a favorire questa partecipazione. Dall'altra noi ci stiamo muovendo ed è un, come diceva anche l'amica della fondazione, e anche noi abbiamo questa, come banca alimentare, proprio è una delle attività che abbiamo, una delle principali attività che abbiamo, che è quella di giornalmente di andare a recuperare presso le grandi distribuzioni oppure presso le stesse mense aziendali il cibo che non viene distribuito, quindi il cibo vicino alla scadenza viene o direttamente noi andiamo a ritirarlo e poi lo distribuiamo alle mense che hanno, che hanno direttamente, che abbiamo vicino prossimo in modo da poter diminuire al massimo i tempi di consegna. Oppure direttamente attraverso le associazioni convenzionate con noi e che comunque garantiscono che il cibo non vada sprecato ma venga riutilizzato subito andando a... Chi sono queste associazioni che lavorano con voi? Abbiamo citato la Caritas e anche loro, se non sbaglio, sono in rapporto con voi, poi ci sono le Misericordie, no? Caritas, Misericordie, San Vincenzo, varie caritas parrocchie singole, insomma, non solo la Caritas a livello diocesano ma anche le singole Caritas. Come funziona? Possono venire direttamente lì? Voi avete sede, intanto lo diciamo, alla Mercafield, no? Sì, presso la Mercafield. Presso la Mercafield. Possono venire lì direttamente a ritirare il cibo, i pacchi, come funziona? Sì, dunque, noi abbiamo circa... abbiamo una convenzione, quindi c'è una convenzione, occorre essere convenzionati con il Banco Alimentare per poter partecipare a distribuzione. La convenzione che cosa, più che altro, è un'attenzione che noi vogliamo avere nei confronti di chi dona che quello che viene donato viene comunque utilizzato in maniera regolare, no? Quindi la convenzione ci permette a noi di avere un'informazione sull'associazione con la quale ci convenzioniamo e capire anche che tipo di prodotti, no? Perché magari può essere un'associazione che si occupa di bambini piuttosto che di anziani, per cui anche la distribuzione dei prodotti viene... È particolare, no? Cioè viene fatta nello specifico, a seconda di cosa c'è bisogno. Esatto. Fatta questa convenzione, poi dopo noi le associazioni, quasi tutte le associazioni regionali, tutta la regione viene lì, viene a Firenze a ritirare i pacchi. Di solito facciamo un ritiro al mese, così facendo noi abbiamo dalle 20 alle 30 consegne giornaliere di associazioni che vengono lì, ritirano i prodotti che sono una parte, sono prodotti anche AGEA, cioè prodotti della comunità europea, che vengono appunto dedicati apposta a questo utilizzo. E dall'altra sono prodotti che riusciamo a raccogliere, sia nella grande distribuzione che nelle industrie alimentari che sono presenti in Toscana e che riescono a... A fornire, diciamo, a fornire dei prodotti. Senta, una domanda, come dire, questo è il lavoro che fate tutti gli anni, allora uno potrebbe chiedersi, ma allora perché parlate del sabato 24 novembre in cui si fa una colletta precisa, se poi tutto l'anno riuscite a raccogliere cibo, perché c'è bisogno della colletta alimentare il 24 novembre? Ma dunque, la colletta alimentare è comunque una cosa un po' particolare, un'esperienza a sé. Primo perché vogliamo un po' coinvolgere tutta la realtà nazionale, insomma tutte le persone, quello dicevo prima, cioè è per noi un'esperienza di partecipazione di un popolo che si stringe un giorno l'anno, si stringe intorno alle persone più bisognose e cerca di dare una mano. È una mano che non risponde a tutti quelli che sono i bisogni. È una mano che non riesce solo a rispondere in piccola parte a quello che è il bisogno alimentare, il bisogno delle famiglie. Però è una mano da parte di molta gente, di tanta gente. Questa cosa qui, che fra l'altro ci sta particolarmente a cuore ed è una cosa sulla quale ci sentiamo in sintonia anche con Papa Francesco. Non dobbiamo dimenticare che la domenica precedente, la colletta alimentare, Papa Francesco ha indetto la seconda giornata mondiale dei poveri. proprio invitando tutto il mondo a rendersi partecipe nei confronti dei poveri di queste loro necessità. E quindi per noi è come una risposta a questo invito del Papa, è una risposta sulla quale ci troviamo in perfetta sintonia. perché appunto la colletta ha come trend da 22 anni a questa frase, condividere i bisogni per condividere il senso della vita. Perché vogliamo stare accanto a chi ha bisogno, perché pensiamo che chi ha bisogno sia comunque portatore dello stesso valore che spinge me a vivere, a cercare di realizzare le cose che voglio realizzare. E quindi questo voler partecipare, voler vivere insieme, questa condivisione, condividere insieme questo bisogno, ci fa essere accanto a chi ha più bisogno. Ed è questo il motivo per cui vogliamo stare un giorno intero davanti ai supermercati a chiedere a chiunque di voler donare, di voler partecipare con noi a questa esperienza. Allora, nella seconda parte parleremo nello specifico di questa giornata, perché insomma vedremo che cosa si può fare, come si può donare, anche insomma come si può partecipare all'irà di questa giornata insieme al Banco Alimentare che ha bisogno e che si basa insomma molto, moltissimo sul volontariato. Quindi anche di questo parleremo, visto che è un settore così importante, soprattutto per la nostra regione, ma non solo. Ci fermiamo giusto per dare spazio alle informazioni che potremmo in studio. Restate con noi. Bentornati in studio. Allora, siamo con Massimo Marchi, che è responsabile regionale per la colletta alimentare. Abbiamo parlato e stiamo parlando di colletta alimentare organizzata la 22esima giornata nazionale che si terrà il 24 di novembre, organizzata dal Banco Alimentare, però ovviamente il tema riguarda anche, lo diceva prima Marchi, il tema più ampio della povertà che nel nostro paese insomma ha purtroppo tantissimi abbonati, diciamo così, visto che crescono e sono cresciuti durante la crisi economica, è che anche in questo ultimo anno sono aumentati rispetto, diciamo, a quella forbice sociale che determina la distanza tra la popolazione più ricca e quella più povera. I poveri assoluti sono sempre di più, chi vive in povertà relativa altrettanto. Allora, guardiamo un breve servizio, poi ne guardiamo in studio. Tre anni fa nell'Unione Europea 117,5 milioni di persone, cioè il 23,4% della popolazione, erano a rischio povertà o esclusione sociale. Ma cosa vuol dire rischio povertà? Una persona che si definisce povera detiene un reddito inferiore del 60% rispetto al reddito medio nazionale. Nel suo nucleo familiare poche persone lavorano oppure vive in una situazione di grande privazione materiale. Intanto, secondo gli ultimi dati in Italia, le persone che vivono in povertà assoluta superano i 5 milioni e il valore più alto registrato dall'Istat dal 2005. Le famiglie in povertà assoluta sono quindi stimate in 1.778.000 corrispondenti a 5.058.000 individui. L'incidenza della povertà assoluta è pari al 6,9% per le famiglie e dell'8,4% per gli individui, come dimostra il rapporto più recente. La povertà non è soltanto la diminuzione del potere d'acquisto ma anche la nullificazione del risparmio, la perdita di valore dei beni con conseguenze che nelle città crescono l'esclusione e l'emarginazione. In Europa nel 2016 le situazioni più gravi sono state registrate invece in Bulgaria col 40,4% di povertà assoluta, Romania 38,8% e Grecia 35,6%. Vivono situazioni di minore incidenza della povertà la Repubblica Ceca, la Finlandia e la Danimarca. Una grande responsabilità della crescita della povertà globale dipende dalle dinamiche economiche sempre più selvagge e di limitati strumenti legali per evitare che i cittadini ingenui siano spogliati da speculazioni criminali. L'allarme vale per tutti. Tutto questo non è lontano dal nostro discorso di oggi perché ne parlavamo prima, insomma i generi alimentari sono la prima risorsa in qualche modo da fornire a chi è povero e tra l'altro dona la spesa a chi è povero e come dire è anche il lancio di quest'anno della colletta alimentare e in generale della vostra attività. Che cosa possono donare le persone che il 24 novembre troveranno i vostri volontari nei supermercati e nei centri dove si può donare? Sì, dunque è importante anche durante la colletta noi vogliamo anche un po' diversificare quelli che sono i prodotti che raccogliamo e che quindi poi dopo mettiamo a disposizione di chi ha necessità proprio perché all'interno di quella che chiamiamo questa dieta mediterranea c'è un po' di tutto quindi non vogliamo solo appunto donare e raccogliere la pasta o il riso ma anche i torni e carne in scatola legumi, pomodori cioè salsa di pomodori ovviamente tutti prodotti non deperibili perché poi c'è tutto il momento dello stoccaggio dello stoccaggio della ridistribuzione che comunque dura un paio di mesi quindi c'è questa attenzione ai prodotti non deperibili e in più anche quelli che sono prodotti per l'infanzia quindi sia gli alimenti per alimenti omogeneizzati i biscotti tutta questa parte qui ma anche i pannolini e cose del genere? no, solo la parte solo la parte alimentare solo la parte alimentare quelli però li avete perché li abbiamo visti prima nell'immagine comunque nel vostro centro alla Merck ci sono quindi c'è tutta una parte di quello che chiamiamo no food che comunque viene ridistribuito a quelle che sono le associazioni e poi ne hanno effettivamente necessità perché appunto la maggior parte è vero che pannolini quasi tutti quelli fanno un po' quasi sempre eccoli qua li vediamo anche nelle immagini insomma quelli sono alla Merck fino alla sede del banco alimentare invece il 24 si dona prodotti di cibo tra l'altro come dire la rete volevo capire questo qual è la risposta da parte dei supermercati delle aziende dove voi insomma voi andate lì e gli dite guarda noi il 24 poi andremo i nostri volontari insomma qual è la risposta c'è qualcuno che stoccia il naso dice ma magari ci rovina la clientela o c'è partecipazione? no c'è partecipazione la maggior parte delle volte c'è partecipazione magari c'è qualche visto che poi la colletta alimentare è una cosa che noi abbiamo lanciato 22 anni fa ma poi visto la bellezza del gesto è vero che qualcuno come dimostrava anche come diceva anche Martini prima della Caritas cioè esistono esperienze di varie collette alimentari per cui magari ci sono anche soprattutto nei paesi ci sono anche dei punti vendita che magari si organizzano con l'associazione locale per fare una raccolta alimentare allora magari ci può essere in quel paese ci può essere non so la raccolta già predisposta da qualcuno per cui magari ci può essere questa difficoltà qui insomma andare a raccogliere lo stesso giorno oppure la settimana successiva questo è un po' insomma il rischio è quello di doppiarsi ma diciamo è un rischio buono anche se succede è un rischio positivo diciamo così non in negativo l'importante è non è che questi questi prodotti poi vadano arrivino dove devono arrivare senta voi lavorate ovviamente soprattutto con le grandi associazioni insomma non solo però volevo capire un po' in qualche modo com'è cambiato il panorama delle persone se è cambiato il panorama delle persone che hanno bisogno di rivolgersi al banco alimentare insomma se anche da parte vostra che siete l'ultimo punto diciamo della distribuzione il punto più in alto della distribuzione però vi arrivano dei segnali di come sta cambiando la società cioè se magari sta cambiando perché ci sono più immigrati meno immigrati cambia l'età delle persone che lo richiedono insomma cambia un po' la platea dei poveri in Italia dal vostro punto di vista dal nostro punto di vista diciamo noi parliamo più che altro per 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 seconda persona perché non abbiamo un'assistenza diretta chiaro infatti diciamo siete a monte diciamo della filiera però ecco per quello che riusciamo a capire a percepire dalle associazioni che sono convenzionate con noi il bisogno aumenta e aumenta più che altro c'è questa grande presenza di famiglie italiane e anche di famiglie giovani esiste questa realtà qualcosa un po' di nuovo no? perché prima non era molto esatto queste famiglie giovani che hanno comunque vivono proprio sull'orlo della della povertà seta come funziona poi cioè volevo capire anche a livello logistico di attrezzatura cioè proprio in termini pratici voi poi parleremo dopo apriremo anche il capitolo diciamo così dei volontari volevo starci un po' di più però volevo capire dal punto di vista dei vostri mezzi delle attrezzature avete qualcuno che vi finanzia o che vi dà donazioni non so immagino insomma la rete di volontariato non sia solo poi di chi come dire valla il sabato a fare la raccolta alimentare o lavora settimanalmente alla Merkfir ma anche di qualcuno che dice ok mi avanza questo dal binancio lo dono al banco alimentare succede? sì succede esiste anche questo aspetto qui per esempio un altro aspetto molto importante per noi di giornalità della colletta è la parte logistica perché noi abbiamo 500 più di 500 punti vendita che poi dobbiamo rifornire di materiale quindi scatole per gli scatolari scotch sacchetti insomma tutta questa parte qui non solo ma poi dobbiamo andare a recuperare il raccolto quindi ci sono furgoni mezzi che girano quasi tutto il giorno intorno a questi a questi punti di raccolta e poi dopo vengono riportati al magazzino così come al magazzino in maggio ci saranno celle frigorifere e quant'altro sì per contenere anche se noi diciamo nella giornata della colletta non abbiamo necessità perché nel fresco non lo trattiamo però nel nostro magazzino ci sono celle frigorifere però abbiamo dei magazzini in ogni provincia della Toscana abbiamo comunque siamo organizzati con uno o più magazzini per cui riusciamo a fare una minima distribuzione della raccolta della colletta la riusciamo a fare in loco direttamente in questo ci danno una mano una grossa mano ce la dà sia l'esercito che partecipa con i suoi mezzi alla raccolta sia alcune alcune esperienze per esempio le poste italiane piuttosto che la Galbani cioè ci sono delle ditte che ci mettono a disposizione dei furgoni e mezzi e anche autisti quindi insomma c'è questa questa parte questa non è scontata abbastanza importante che poi voglio dire anche sia come tempi anche come costi perché non è certo non è scontato comunque doversi muovere tutta la regione non è secondario appunto l'aspetto l'aspetto economico senta i volontari no perché insomma lo vedevamo c'è anche un cartello al banco alimentare insomma cercasi volontari diciamo così cioè le iscrizioni sono sempre aperte in questo senso c'è sempre bisogno di una mano però la vera forza poi del banco alimentare sono loro in qualche modo sia nei numeri che l'abbiamo visto per quanto riguarda la colletta ad esempio l'anno scorso lo ripetiamo 145 mila in tutta Italia ma poi anche per il lavoro che va fatto tutto l'anno esatto sì ma noi stimiamo cioè a parte il diciamo il giorno della colletta noi abbiamo stimato circa 6-7 mila volontari in Toscana che partecipano che ci danno una mano a questo livello e poi ovviamente avendo 20-30 consegne giornaliere tutti i giorni tutti tutto l'anno a più a queste 600 associazioni convenzionate occorre queste consegne vengano fatte da qualcuno questo qualcuno sono comunque volontari che giornalmente vengono a far servizio e quindi fanno tutta la parte di magazzino di stoccaggio e di ridistribuzione poi di questi se uno vedesse il servizio e dice se vuole partecipare anche io come può fare? allora c'è un sito del Banco Alimentare e quindi nel sito poi può sia iscriversi per la colletta alimentare dicendo anche qual è il paese dove sta dove vuole partecipare e poi dopo noi lo contattiamo direttamente si fa l'attività anche del resto dell'anno esatto il sito poi ci permette anche di poterci contattare per per far per farvi avanti per partecipare non solo alla distribuzione io penso anche a tanti pensionati che magari hanno un po' di tempo libero e che magari hanno anche difficoltà a fare a prendere il pacco a metterlo dentro magari a fare cose che magari a una certa età si incominciano ad essere un po' pesanti però abbiamo tutto anche gli aspetti amministrativi perché la legge ci impone che chi dona deve comunque farci una bolla di consegna quindi c'è tutta la parte amministrativa che non è poca e comunque anche negli uffici c'è posto per per dare una mano a questa grande rete di tutti i generi dell'età i volontari sono sempre ben accetti mi dice solo su questo 20 secondi c'è una risposta anche da parte dei giovani insomma collaborano con voi lavorano si vede un po' di oppure andrebbero spinti un po' di più diciamo c'è una realtà giovanile legata molto alle associazioni quindi le associazioni riescono a coinvolgere coinvolgere i giovani non solo per la colletta ma anche per il resto del lavoro siamo quasi in chiusura come dire volevo chiudere raccontando un po' quello che poi succede tornando sul discorso iniziale quello in qualche modo del senso del valore morale anche del valore etico che ha la colletta alimentare non è soltanto donare un pacco di piselli o una scatola di pomodoro vuol dire qualcosa in più vuol dire fare del bene aiutare davvero chi poi ha bisogno e siccome il periodo diciamo così storico in cui viviamo è un periodo in cui viene osannato potremmo dire l'odio le male parole insomma anche in qualche modo la cattivezza si vede spesso questa è una risposta positiva di un'Italia positiva di un'Italia che in qualche modo crede nei valori fondanti del prossimo dell'aiuto della sussidiarietà no? Sì senz'altro è una risposta facevo un esempio mi veniva di fare di ansia quando si parlava della povertà non è raro vedere davanti ai supermercati qualche persona che magari sappiamo essere lui stesso un assistito che comunque vuol partecipare alla giornata della colletta quindi magari quel poco che riesce a spendere però magari un barattolo di pelati vuole comunque partecipare vuole comunque donarlo quindi questo è comunque per noi un grande segno che le persone percepiscono e quello che sta dietro la giornata della colletta è proprio questa volontà di dimostrare che attraverso un gesto concreto si può comunque rispondere a un concreto bisogno chiarissimo grazie mille Massimo Marchi per essere stato con noi vi ricordo ancora una volta il 24 sabato 24 novembre eccolo qua vedete anche la grafica la colletta alimentare dona la spesa a chi è povero ritroverete in tantissimi supermercati non solo della nostra regione fate una donazione perché è davvero molto importante noi nel nostro piccolo cerchiamo di raccontare questa esperienza grazie mille a Marchi ancora grazie a tutti per averci seguito da casa Telegram termina qui ci vediamo domani buona serata a tutti come va insieme per aver guardato il stock